c'è nessuno montato a mio cugino ma diciamo che noi subitamente le contropiastre le mettiamo però qua era originale che non è mai cambiato quindi c'erano quattro viti con tre viti nella mia sottile un millimetro ma i lavori ben fatti ancora iniziare e qua adesso si fa il buco per far entrare a contropiare e non è anche troppo il piano del mobile so che non c'è nessuno dammi giochino dammi giochino dammi giochino aperto al massimo al minimo vai vediamo massimo andrà costruita la tua roba e tu stai pronto nel casa di chiudere ah minchia pienissimo io ho detto ma non faccio il carico no no li devi tirare su e tirarlo verso di te si si tutto deve ti deve restare in mano ok ok ora si spende chiudo chiudi 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 chiedi chiudi apri piano non c'è un piano se potessi aprire il piano ce la faremmo scaricare non c'è un piano fai a botte vai tan tan C'è un po' di isolamento comunque Eh, quello che l'ho messo io, quello dopo Oh, via Che ansia C'è la nostra Toglio un attimo che guardo qua sopra Toglio un attimo Se la metto là dietro Poi mi fa alzare la riga della levatura Non la metto dritta Dov'è che sì? Carlito? Ciao Carlito Ma cosa fai? Mi leghi l'obiettivo Sei matto? Ma sei matto? Ma sei matto? Ma? Ma? Ah ok sì sì Compacciano pure Eccoci qua da VRC Factory Abbiamo un nuovo miscelatore Bello fiammante Incredibile Non teneva più la modifica di prima Siamo qui con Luca Filippo E Serena Che è su Stiamo installando resistenze qua Allora visto che l'anno scorso sono andato L'anno scorso in realtà era febbraio-marzo Sono andato su Ha fatto meno 26 Ho avuto un po' di problemi Adesso stiamo cercando di Il lavoro migliore sarebbe smontare tutto Per loro mi hanno detto che stasera Non riescono a smontarmi tutto il ducatone E rifarmelo E quindi mettere un po' Delle pezze tra virgolette Nei punti critici dove ghiacciava Queste robe qua Quindi allora per esempio mi stanno cambiando Il bocchettone di carico Perché questo è chiuso E sotto avrà una resistenza piccola Ma che scalda parecchio Quindi non mi si ghiaccerà più Si spera Dietro la contropiastra Un lavoro fatto come si deve Invece di base Pusso il puzzle Lo montava così sulla lamiera Luca Faremo un nuovo giro di tubo di alimentazione del serbatoio Lo sposteremo Sì perché là dietro è un po' Insomma Ho paura che ghiacci perché non ci arriva proprio il calore Quindi Luca guardandoli mi ha detto Ah perché a sto punto non lo facciamo passare lì Quindi ottimo E mi sta cambiando Un miscelatore nuovo Perché era mezzo ciucco C'è lì quello l'hai tolto? C'è lì Ora c'è lì Eccolo qua E beh il suo l'ha fatto eh Onesto È stato onesto Ma è il suo originale questo? Sì sì Allora Ho fatto dieci anni Bello marcio Io poi l'ho aggiustato un po' alla mio cugino così E ho detto dai che tiene Dai che tiene Poi Magari Lo cambiamo È da prima che volevo fare sta ripresa Ok aspetta ad andare a contatto che punto le viti Non passava eh La metto io La metto io Cosa vuoi Carlito? Cosa vuoi? Cosa? 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 Siamo al lavoro Stiamo lavorando Che setup Pazzesco Ah se ne voglio prendere le pizze dentro Per favore Stai l'impasto Un po' grosso magari Ma ragazzo ha detto legna Eccolo Forve legna Qua è un approfitto Che è sempre la sola Con i centomila cose Ti manca veramente La canottiera bianca e la bandana Uh cosa manca? Aspetta Quella è di stare Pagatini più piccoli? Uh un filo più piccolo Mettere le zandalugia Proviamo Fammi vedere Metti due pezzettini Che piace eh La bolla lì La bolla lì Quante vuoi che dura un poco Porca m***a Cosa è successo? Eh, è sbagliato No, buonissimo Eh, ma perché è sbagliato? Perché prima era lento Adesso era Cotta Beh, la mangio io ce l'ho È cancerogeno, amori Sì, ma va bene, eh Poi piuttosto se ne serve ancora Oh, io sto impiccando la seconda, eh Questa si raffredda, diglielo Dì che è pronto Si sta raffreddando, mi dicono, dalla regia Butta due pezzi di legna Sono già pronti Così? Bella questa postazione Un po' traballante, eh Su tavolo Si può? Ma no È cancerogena questa M***a Dai ci siamo a parte quella Ma lì, perché l'ho caricata un attimo Amore Quando hai urlato tipo Porca troia Guarda Che abbiamo sentito da dentro No, vabbè Potrebbe Com'è? È spaziale C'è macchina infasto È Super È abbastante Cioè È perfetta Buona Perfetta, amici Vai Ancora Ma che via Sì ma secondo me è 20 secondi No, 20 secondi si brucia Ragazzi non ho fatto tutto Sì va da una 3 minuti 3 minuti e mezzo Prima avevo comprato un chilo abbondante Perchè vuoi assaggiarla? Sì la voglio assaggiare Guarda che freddo ormai Si deve Aspetta questo qua è mio però Facciamo Oh mio dio Un orgasmo di gruppo Non è vero che era freddo è bollendissima Sto per godere Perfetta Come? Non ho capito Beh ma è buono solo il lardo Io paravo del lardo Anche su quella del kebab Ma è buon lardo di no Buono Grazie Davide Grazie Ho capito com'è andata a finire No non è così forte Come? Che domani si accende il semaforo dietro Rosso? Domani è rosso Madonna no Anche già stanotte No ma è il semaforo Poi le cipolle faranno Le cipolle lavoreranno stanotte Ah diciamo che Invece è piccante Romani di giorno A bremage Romani durante il giorno Camminerò come potenza Quello La bremage Quello sport Lascio anche le sgommate Cazzo 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 è un po' freddo Sì Buona Ah lui Cos'è davvero la fontina Bastardi Dai Può mangiare o brucia? Brucia Siamo bruciati Guarda come è fumato Sei bruciato No 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 ma non ti bruci come Cioè ti bruci ma è sopportabile Sopportabile Ti bruci ma poi riesci ancora a parlare E' un secondo grado Io vi ho quella con più piccante Uno stione di secondo grado Ehi si raffredda Bravo Come? C'era davvero la fontina Bastardi C'era davvero La voi questa con 18 Perché ieri è preso questa Quindi era questa Ma cosa qua è un po' di giallo? Forse il segno era questo Era questo Bisognava metterci tipo un'oliva o qualcosa Eh A un tappo di un'icnusa Esatto In cottura Come? In cottura Come? Non si può dire Wow Cade tutto Li vedo in crisi Li vedo in crisi Eh si Perché però c'è un pezzo per strada E mangialo lì sopra Così mancava da cadere su un altro pezzo Alla ma Ole Capito Questa si è Beh sentiva subito la fontina comunque Ma me è la mia Io la sento Mamma Phil com'è? Ma Pizzaiolo? Si si sta impiegando un po' meno di quella di Ghiari Ma si fa quel che si può Vabbè Allora poi adesso devi fare quel giro che gli facevo fare io Che la prendi un po' su e l'allunghi Ma non troppo Cioè tu devi capire quando stai arrivando al massimo Perché sennò poi si spezza Si si apre Ma la tengo solo dal bordo Eeeh Si Alza un po' così lei si allunga Ma ancora un attimino di qua ci siamo Eh ma no aspetta no No dobbiamo fare nutella e poi metterla ancora un attimo Faccio che toglia Se no la brucia No no la nutella la metti così e basta La metto così e basta No e poi madonna diventa Si Se la metti in forno fa quello strato e fa schifo Terribile Si Guarda con una mano in tasca E lì Cioè guarda che stile Guarda che stile Da riparare i camper a fare le pizze Un attimo col maestro Ghiari Ah bellissimo Quindi va bene Subito la nutella Dove essere 8 kg di nutella e mi hai preso un coltello Ah Mettila tutto fai così Si apre Devi girare Grazie Mi era molla Che scivolava la mano Minchia è dura Minchia Eh c'erano 8 gradi prima del banco E quando è così piuttosto uno l'apre e la mette lì sotto davvero Eh stavo schiazzando Si schiaffala un attimo dentro Il fondo Si 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 Madonna Ma proprio Cubi Dai ieri approvava No io non mi Quanto basta Quanto basta per tutto Quanto basta Non si veniva a spalmarla un pochino Ma Per di tempo Ma poi ci mettiamo un po' Però poi li buttiamo in fuoco Ma guarda che si sta sciogliendo Vabbè se si scioglie non serve il fuoco Cos'è? È lardo con una nutella Quanti siamo? Ah fatte in 4 7 Perché Perché Minchia siamo in 6 Era anche facile In 6 Beh ice e Carlito Io ci ho pensato L'unica che non possono mangiare L'hai fatta in 8 Piccolo dettaglio è vero Com'è chef? Ah è buona Puoi anche fare a venire un po' più in qua Molto buona Come? Non ci vedo più ma è buona Temperatura mangiabile o mortale? Non è Mangiabile Molto Non è bollente Mangiabile la cera chiamata Capito? Cioè 40 euro soffetta No dai è buonissimo Ah è È buona Allora Visto che il letto È completamente smontato Perché stanno facendo un po' di lavori Oggi hanno lavorato un po' Sul serbatoio Per fare delle modifiche Tutto Vabbè damani poi vi spiego bene Ho deciso di Cosa è successo? Ah guarda qua c'è Lo schermo touch Ho deciso di aprire il tetto soffietto Dormire sul tetto soffietto Tanto qua non fa così freddo Poi ho una bella coperta E domani proseguiranno i lavori Poi vi spiegheremo bene Cosa stiamo facendo Le modifiche che abbiamo in mente Insomma Spero poi di non avere problemi A certe temperature Visto che mezzi così Nascono con determinate problematiche Poi una volta che si presentano Noi sappiamo esattamente Dove andare ad agire Io avevo alcune idee in mente Filippo, Serena e Luca Poi mi hanno Sono parlando Sono saltate fuori delle Delle idee Per risolvere questi problemi E insomma Tante menti Tante idee Può uscire qualcosa di Di interessante Sicuramente così sarà Io sicuramente Non vedo l'ora di partire Primo Primi Prime modifiche Da WRC Factory E prima notte che passo qua Subito Prima volta che vengo qua E prima volta che passo La notte qui in officina Cosa che faccio sempre da Antonio Assolutamente Non scontata E che io apprezzo Quindi domani si continuano i lavori Abbiamo mangiato delle ottime pizza L'evitazione quasi 24 ore Sì poco meno 22 E sono venute molto molto bene Il fornetto Sempre super top E niente Ci vediamo domani Grazie per tutti i commenti Sulla Sony Ci sono stati alcuni problemi Messa a fuoco E un po' cambio di esposizione Però come tutti Come tutta l'attrezzatura Per qualsiasi tipo di attrezzatura Bisogna imparare a usarla Ora la Ferrari c'è Bisogna imparare Ad andare forte in curva Notte raga Bella